Salve popoferi, popoferi e benvenuti a questo nuovo video di costruendissimo su MotoGP 15 Episodio 14, siamo ad Agon, pista odiosa, le prove libere sono andate di merda, le qualifiche sono andate di merda, parto ultimo Scendiamo in pista e vediamo un po' come la verona Aspettiamo che carica, totalmente la classifica perché sennò Tra il pilota buggato e io con il pilota buggato non riesco a correre purtroppo Come potete vedere parto ultimo E niente, vediamo un po' come va questa gara di merda Prima dentro, gas a martello e via 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 partiti Sono 5 giri E vediamo un po' come va questa gara di merda Sta pista odiosa Agon è proprio una pista odiosa L'ho sempre odiata Agon e sempre la odierò Con qualche categoria Moto3, Moto2, MotoGP È odioso come pista Agon Agon come pista è molto odiosa È una pista odiosa Per questo all'inizio ho detto pista odiosa Perché è odioso questa pista E adesso capirete anche il perché è odioso Ok 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 Ecco avete capito il perché è odiosa questa pista Perché è odiosa questa curva si cade sempre Poi si metto E L'altra caduta A queste due curve si cade sempre Ecco perché è odiosa questa pista Perché quelle due curve sono bastarde di Agon Quindi si cade Faccio il momento Come avete visto Oh L'ho chiamato qui Vai Cassavartello Olivanera secondo Geo record Di Olivanera Quattro oggi C'è quattro Giro record Dopo Quattro Arropegiamine Giro Amplодно Quattro Avila Comarattale Così Collectora Quattro Dicinet skull Viore Quattro Grazie a tutti. Ok. E due secondi e tre di stacco. E due secondi e tre di stacco. 4G record portando per gli amici. Vai, 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 vai. Grazie a Martello. Tre giro su cinque. Manca un due giro alla fine della gara. Ecco, dodicesimo. Sono quindicesimo. Un bel mandaggio, un mandaggio. Questa è una pista odiosa. Non c'è un minuto da fare. Questa è una pista odiosa. L'album era sempre pista odiosa. Queste curve di merda di arabo sono proprio odiose. Questa è una pista odiosa. Questa è una pista odiosa. Dai, gas a Martello. Questa è una pista odiosa. Quattro giri su cinque. Penultimo giro. Manca un giro alla fine della gara. Non c'è una pista odiosa. Un giro alla fine della gara. Un giro alla fine della gara, dai. Ce la possiamo fare. E sono caduto. Manca, manca. Un giro alla fine della gara. Il giro alla fine della gara ce la possiamo fare, il caos, se non è caduto, ce la facciamo. Tutti, tutti i miei risultati, mannaggia, mannaggia. Tutti, tutti i miei risultati. 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 Tutti. Tutti, tutti i miei risultati. Tutti, tutti i miei risultati.